Allora oggi siamo in qualità di volontari di Mission Bambini venuti a Torino in visita al Medo del Dialogo. Come vuoi? Non lo vuoi dire? Sognare! Arriviamo subito! Ci troviamo al Polo del Dialogo. Il Polo del Dialogo è un centro che coinvolge sia un nido, sia una scuola dell'infanzia, sia un baby parking. Siamo in un territorio culturale e quindi abbiamo un certo numero di bimbi di varie etnie, italiani, nigeriani, provenienti da Marocco, provenienti dalla Romania, Cina, quindi c'è un bel mix sostanzialmente. Grazie appunto al sostegno dei progetti di Mission Bambini riusciamo a garantire a più famiglie per esempio delle rette agevolate, sia per il baby parking, sia per il nido e talvolta anche per attività che vengono proposte alla scuola di infanzia. Cerchiamo di favorire una sorta di scambio, quindi è importante che tu vada a scuola di italiano, non preoccuparti, io posso occuparmi del tuo bambino. In un paese come l'Italia un milione di bambini vive sotto la soglia di povertà e povertà non è solo una povertà materiale, ma diventa anche povertà educativa e culturale. Strutture come queste e l'aiuto di Mission Bambini a sostenere questo progetto favorisce un'integrazione. Sapere che Mission Bambini sta aiutando l'integrazione, sta aiutando l'inserimento di questi bambini in questi contesti è molto bello, quindi è stata un'esperienza più che positiva. Tanti bambini non hanno la possibilità di frequentare il nido. Apriamo la porta al loro futuro. Sostieni insieme a noi la campagna Fatti Grande di Mission Bambini e grazie. Sostieni insieme a noi.